Come si crea un'offerta davvero irresistibile per i tuoi prodotti online o offline? Quello che vedremo in questo video sarà qualcosa di molto importante perché ti spiego la formula segreta per creare un'offerta vincente, un'offerta che ti potrà far guadagnare molti molti soldi vendendo molto di più il tuo prodotto proponendolo in una formula realmente speciale. Tra poco accederai quindi a un estratto di un video dove ti parlo di come creare l'offerta perfetta e come dietro all'offerta perfetta c'è una formula segreta. Quindi mi raccomando iscriviti al canale, metti un bel mi piace, commenta questo video e adesso goditi il tuo video. Ok eccoci in quest'altra lezione dove parleremo dell'offerta, capire qual è la formula segreta per avere un'offerta vincente, ok? Agli occhi del cliente. Questa cosa va sia per l'online che per l'offline quindi è valida per ambo le situazioni, è valida se hai un prodotto fisico ma se hai anche un prodotto virtuale, digitale e quant'altro. Prima di tutto devi sempre partire da questo presupposto qua e spero veramente ti sia ormai entrato in testa che il tuo prodotto o servizio deve risolvere un problema. Se non risolve un problema potresti avere tu qualche problema perché in realtà tutto quello che non risolve un problema è molto più complicato da vendere perché deve avere un effetto wow, deve avere magari un effetto branding molto forte che permetta agli utenti di dire io lo voglio perché ok? Quindi deve risolvere un problema di base o se no devi far sì che capisca che risolve un problema che può essere anche ad esempio l'insicurezza, è un problema. Il fatto di essere magari denigrato da qualcun altro per quanto è bruttissima questa idea qua ma è un problema. Quindi se io ti dicessi che se non hai l'iPhone sei un fallito, quello è un motivo per cui tu cominci ad avere un problema e vuoi risolverlo. sembra una cavolata ma la società fa questo ok? Perché tutti vogliono comprare l'iPhone? Perché è uno status symbol? Perché io devo avere l'iPhone? Perché l'iPhone è da ricchi l'Android è da poveri? Non so perché però il discorso è questo qua ok? Quindi realmente bisogna creare il problema e andarlo a risolvere. Questo è sempre la formula chiave ovviamente non stare a denigrare nessuno, a offendere e quant'altro altrimenti ti sputtani. Ora step 2 quindi abbiamo visto e andremo a vedere nel concreto questi 10 step che ti ho fatto già vedere comunque ci sono alcuni elementi che ti permettono di capire poi come sviluppare questi 10 step. questo step qua è dedicato al prodotto e servizio quindi come puoi aiutare, che problemi risolve, chi sono i tuoi competitor, perché devo comprare il tuo prodotto o servizio e non quello di qualcun altro ok? Perché hai un prezzo magari maggiore, devi giustificarlo ok? Non basta solo alzarlo, devi giustificare le cose. c'è qualcuno che ha provato il tuo prodotto o servizio e che si trova bene, si è trovato bene quindi potrebbe consigliarti? Questo è molto importante. Quindi ci sono tre fasi che devi assolutamente andare a reperire e a capire per avere un prodotto o un servizio vincente. Forte domanda, risolvo un problema, rientra in una passione e attualmente in un trend. Questi sono i prodotti più alto vendenti di sempre, ok? Bassa disponibilità, non è facile da reperire, non ha competitor, prodotti o servizi nuovi. Qua possono avere comunque un forte appeal perché hanno una bassa disponibilità, quindi magari sei solo tu a venderli e c'è molte persone che vorrebbero questo prodotto o servizio, oppure hai zero competitor o hai qualche competitor molto magari scarso, oppure hai un prodotto, un servizio innovativo, nuovo, ok? Unicità, effetto wow, customizzabile, innovativo. Questi sono i prodotti forse un pochettino più difficili da vendere perché anche se hai un effetto wow, quindi sicuramente un effetto tipo ok, no, lo devo avere per forza, ma non risolvo un problema. Quindi è un trend, è un qualcosa del momento e tendenzialmente si basa su un acquisto di impulso. Mentre la customizzabile sono prodotti che sono sempre piaciuti perché comunque customizzarsi i propri prodotti è un qualcosa di interessante. ad esempio io ho avuto per due anni un sito che vendeva delle tele brandizzate con delle, praticamente la possibilità di customizzarle in maniera particolare con la foto del proprio cane e vendeva tantissimo, ma vendeva sotto le feste perché era un prodotto da regalo, non era un prodotto che magari vedevi e diceva ah lo voglio fare adesso, no, magari lo regalavi a qualcuno. Innovativo, se hai un prodotto innovativo come un prodotto che sto per lanciare in questo istante che in realtà è un servizio, non è un prodotto so già che mi ci vorrà del tempo per far capire alle persone l'innovazione dove sta l'innovazione, è come quando è uscito il primo iPhone la gente doveva capirlo, poi boom, è esploso, però doveva capirlo quindi il mio sforzo economico a livello anche di marketing è più alto. Ovviamente, forte domanda, hai dei prodotti vendibili veloci bassa disponibilità, hai dei prodotti che sono vendibili un po' comunque veloci, ma non tantissimo. Unicità, sicuramente prodotti vendibili ma che possono nascondere delle insidie sotto che può essere la stagionalità, può essere il fatto che è solo per un regalo può essere il fatto che la gente deve comprare l'impulso se non ci deve pensare quindi non è un qualcosa che risolve un problema ad esempio io ho male i denti, tu mi offri servizio per aggiustare i miei denti alla cifra di quello che devi fare, ok? Io ho bisogno, quindi lo devo fare, ok? Faccio sempre l'esempio di un mio cliente che vende occhiali che è diventato molto molto importante anche per Luxottica e quello che si vede è che lui ha un prodotto e un servizio che offre legato a un bisogno effettivo, a una domanda veramente precisa e a una risoluzione di un problema. Io non ci vedo bisogno degli occhiali. Basta, non c'è modo. È quello che dico sempre anche i suoi venditori, no? I suoi venditori quando facciamo la formazione dicono eh ma quella perché è uscita, se ne andrà. Ma come fa ad uscire uno che è venuto perché ha un problema ed effettivamente non ci vede, ok? Può essere il discorso di prezzo, ma loro quella roba lì non ce l'hanno perché hanno talmente tante vastità di prodotti, di servizi che è impossibile. Quindi vuol dire che c'è altri problemi, cose che vedremo ovviamente nelle lezioni successive. Ma è molto importante basare su questo. Quindi forte domanda, più forte, più bassa disponibilità, più unicità crea l'elemento perfetto ovviamente. Questa è la formula segreta. Quindi se hai un prodotto che ha una forte domanda, una bassa disponibilità che può rientrare come ad esempio non facilmente reperibile oppure che è ai pochi competitor, oppure che è nuovo ed è unico, quindi crea un effetto wow, è customizzabile, innovativo quello che poi è l'elemento veramente differenziante per il nostro business. Guarda bene, quindi prodotto barra servizio vincente. Quindi la forte domanda, più la bassa disponibilità, più l'unicità ci dà il prodotto o servizio vincente. Questo è quello che viene fatto da questa formula. Se ovviamente ne hai una delle tre, sicuramente può funzionare meglio se ne hai almeno due, ok? Se nei tre hai veramente un prodotto vincente. Ricordati anche sempre alcuni punti importanti. I bonus, gli incentivi, le garanzie, le case history, le testimonianze sono elementi che ti portano ad avere un flusso importante di clienti perché i bonus servono per creare quell'attrattiva veloce. Gli incentivi quindi sono uguali ai bonus, cioè dai un incentivo per fare l'acquisto, il pagamento a rate e quant'altro. Le garanzie sono fondamentali perché rassicurano sulla paura di perdere soldi. Le case history rafforzano l'idea che qualcun altro ha provato il prodotto prima di me e che si è trovato bene, prodotto o servizio. Quindi stessa cosa recensioni, ok? Persone che ne parlano bene. Testimonia, persone che ne parlano bene. Referenze, persone che ne parlano bene. Questo è quello che devi andare a cercare. Quindi ricordati, se tu hai almeno uno degli elementi della forte domanda, almeno uno della bassa disponibilità, almeno uno dell'unicità, hai un prodotto vincente. Se invece dei tre ne hai solo due, comunque hai un prodotto vincente. Se ne hai solo uno potresti zoppicare un po', ma sicuramente quello che devi fare è cercare un elemento che ci permetta di essere in tutte e tre le fasce che ti ho fatto vedere. Perché è molto importante? Perché questi elementi qua costituiscono il tuo prodotto vincente. Basta. Questo è l'elemento che devi cercare. Prodotto e servizio che quando esce nel mercato la gente vuole realmente avere. E qui ci andiamo a collegare sull'elemento differenziante, sul fatto di cercare l'elemento differenziante che ci porta a ottenere dei risultati concreti. Sono sicuro che questo video ti servirà e ti potrà essere utile. Quindi mi raccomando, ricordati di iscriverti al canale, mettere un bel mi piace e soprattutto andare a vedere gli altri video che trovi all'interno del mio canale.